Non ci credo Che schifo Fa schifo Che schifo sta vomitando raghi Buon day Oggi sono in compagnia di Roby raga è tornato a maltrattarmi Ovviamente sto scherzando Siamo qua con un nuovo video insieme Oggi faremo la ruota del La ruota scomoda La ruota sta scomoda Quindi lasciate già un bel mi piace Mi raccomando Come c'è con Seguiteci dove Seguiteci Dove su Instagram Lasciamo i nomi qua Giuseppe Sassino basso Ok perfetto Iscriveteci a te Sempre va brutto Ascriveteci a campanella E per se non avrete capito Scrivate la campanella E come c'è Con hashtag Nuovi iscritti Se siete nuovi iscritti E per se non avrete capito Nuovi iscritti Vi faremo vedere Che ci sarà un delizio Quando gireremo Quella c***o di ruota E via Quindi vi lasciamo la ruota Ah mi sono dimenticato Di dire una cosa Che schifo ci si vedete insieme non perché abbiamo fatto pace andate a scoprire tutto nel video vi lascia la descrizione qui vi lascia il link in descrizione in descrizione trovate anche il link per le maglie, le felpe, hashtag petacolo, ora noi vi lasciamo al video e ci saranno anche i capelli con la nace no voi non ci sono più allora eccoci qua con la nuota degli obblighi ragazzi ci abbiamo scaricato un'applicazione ora praticamente darò la possibilità di iniziare perché sono ospite a casa sua però lui aspetta sul mio canale quindi inizi tu tradito è mai tradito nella tua vita? no un amico no 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 ragazzo ma a me hai tradito in realtà no sono un bravo ragazzo io un like per Robi che è un bravo ragazzo vai ok vai tocca a me subisci una non è vero subisci una subisci una sberla oh fra non è che mi tira una cinca se capita a te fermo allora raga qua fate gli screen mentre gli tiro la sberla mettetela su instagram taggateci Roberto magro trattivo basso Giuseppe trattivo basso trattivo basso barbuto vai dai veloce veloce uno veloce due dai tre via che male che male raga mi ha fatto malissimo guarda c'ho già la guancia rossa c'ho vai tocca a te quanto godo si esce pure te no bacio bacio ok devi darlo tu a me ok siamo proprio grandissimi questo è il bacio della pace tu che a me vai nicchia se ti esce ancora subisci non ci credo non ci credo subisce una sberla non ci faccio credere ma non basta facciamo che sarà con te c'è uscita subisce una sberla all'altra parte ok uno non ti l'anima te no non te la tiro però fai veloce due pronti parte via che male ci avrò più un pugno raga finirò col video tutto rosso guarda che roba sembra un peperone sembra un peperone tocca a me secondo me c'è qualche trucco cos'è? scambio outfit scambio outfit vai vai ti devi mi piace sta ferro mi sa che bella terra che strano se tu tu dono addosso anche te puzi un po' di me tocca a te poi questa bella da calcio che tiene subito il sudore cos'è? segreto forse segreto segreto devo rivelare un segreto e cosa posso rivelare? un mio segreto non un segreto un segreto è che quest'estate mi ero innamorato di una ragazza che mi ha frenzonato va bene? sì ok sì ve lo confermo ragazzi confermi confermo quindi se qualcuna per caso volesse cioè non frenzonarmi siccome io vengo sempre frenzonato sono qua scrivetemi instagram più sapere trattino basso trattino basso subisci una sberla ma c'è che ti usciva a tirare una sberla? porca vacca finalmente no dai 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 però veloce fra ok no fratino mi cago addosso ragazzi commentate con hashtag robbie cagasotto 6 dai fai l'uomo io sono stato fai aia bello è stato caglio ah le immaginate i croccantini ah sì se ti tira una sberla te la tiro non ci credo no tira una sberla non ci credo e così si ha due pare vedi che intelligente non ce lo posso credere però ti lo sai perché mi devi tenere? perché si aia polla ragazzi giriamo un'altra volta la ruota vediamo cosa uscirà ragazzi abbiamo girato la ruota vediamo cosa potrebbe uscire cosa è uscito? maggio croccantino del cane che schifo no allora vi spiego questo è l'ultimo quindi dobbiamo farlo tutte e due che schifo frate che schifo che schifo non è mai uscito mangia i croccantini del cane mangia un stile andiamo ragazzi esperienza più unica che è rara solo solo sul canale di Giuseppe Barbuto queste cose ciao vogliamo mangiare i croccantini del cane sentiamoci fuori che c'è luce no vi alla basta non esagerare ok siamo pronti ragazzi mi raccomando facciamo un bel mi piace perché stiamo per mangiarci i croccantini del cane mettete un like anche voi se vi piacciono i cani ti rubiamo il cibo ci tocca mangiare i croccantini mina ti rubiamo il cibo si ti rubiamo il cibo io prendo quell'arancione no si mi sembra più buono 3 2 1 l'hai fatto cadere prendilo prendilo adesso te lo mangi no l'hai fatto cadere fa schifo che schifo sto vomitando sto vomitando sto vomitando che schifo guardate te lo devi mangiare ok buoni no che schifo no frate mamma mia no no mangialo devi mangiarlo io l'ho mangiato di cosa sa frate mangialo mangialo l'hai tutto in bocca in goia non appare subito il gusto vuoi un po' d'acqua dolce? mi sento i pezzi comunque lasciate un bel mi piace commentate con hashtag locos per sempre perché siamo tornati e adesso spaccheriamo tutto qua ve lo diciamo e qua ve lo confermiamo mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanellina passate dal canale dei locos che vi lascio in descrizione che sono usciti altri video e siccome la ruota è personalizzabile magari consigliateci nei commenti cosa inserire nella ruota perché faremo un'altra ruota degli obblighi mi fai male al piercing è bellissimo basta basta ciao raga ciao ciao